Noi dobbiamo dare certezza alle nostre città, ai nostri cittadini per poter vivere un Natale quanto più normale possibile. Anche per questo a Firenze ci stiamo prestando a emanare un'ordinanza che prevederà a partire dal primo weekend di dicembre l'obbligo di mascherine nelle vie dello shopping natalizio, proprio per consentire acquisti in sicurezza e permettere alla città di andare avanti. L'unica strada è quella della vaccinazione e del mantenimento della guardia alta dal punto di vista del rispetto delle regole basilari come mascherine e distanze. Non abbiamo altra scelta, ormai è chiaro che dobbiamo vivere con questo virus e con le varianti che a quanto pare non mancheranno rispetto alle quali riponiamo tutta la speranza nella scienza perché si trovino...